Buongiorno e buon lunedì a tutti, oggi è il 31 di ottobre, l'ultimo giorno di questo mese di ottobre particolarmente intenso da tutti i punti di vista. Bentrovati, sono le 7.30 e questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali. Cominciamo dal santo di oggi, il santo di oggi lo vediamo con il cartello è Sant'Alfonso Rodriguez, il sole è sorto alle 6.41 e tramonterà alle 17.03. Subito il sito internet di Occhio alla Notizia che ieri ha avuto un boom di accessi con tantissima gente che è venuta davvero a vedere. Tutti gli aggiornamenti sin dal mattino presto in tempo quasi reale con fotografie, con aggiornamenti su comunicati stampa e quant'altro che arrivavano in redazione. Tutto il sito naturalmente è dedicato alla questione del terremoto di cui parleremo tra un istante e questa è la pagina, l'home page del nostro sito internet. Andiamo anche, visto che ci siamo, a dare uno sguardo ai dati della nostra stazione meteorologica. Eccoli qua, questi dati pubblicati sul sito di occhioalanotizia.it. La temperatura alle 7.30 registrata dalla nostra stazione meteo di 8.3. Con questa immagine che ci fornisce invece la webcam che punta sulla parte nord-est di Fano, un cielo che si presenta, vedete, variabile con ancora foschie di primo mattino. Queste sono invece le previsioni della protezione civile delle marche sul sito appunto internet. Le previsioni per oggi, poco o parzialmente nuvoloso in particolare nelle ore centrali della giornata. Non ci saranno precipitazioni su tutta la regione, le temperature sono senza variazioni di rilievo, le temperature massime in lieve diminuzione sono invece le minime. Per domani, primo di novembre, giorno dedicato a tutti i santi, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con temperature in lieve diminuzione nei valori minimi. Per quanto riguarda invece la giornata di mercoledì, avremo probabili lievi precipitazioni nelle zone interne, peggioramento nella giornata di giovedì con probabile successivo miglioramento. Queste sono le previsioni del tempo. E adesso andiamo a leggere i giornali. Tutti ormai ne abbiamo parlato abbondantemente, i giornali, i telegiornali continuano a mostrarci quel che resta di questi paesi del centro Italia colpiti da questa ennesima scossa di terremoto, fortissima la più alta negli ultimi cento anni, 6.5 della scala Richter che hanno fatto tremare alle 7.41 tutto il centro Italia. Cominciamo allora a vedere i giornali e direi di cominciare dalla copertina del Corriere Adriatico che dice tutto, non finisce mai. Ecco il titolo a tutta pagina con questa fotografia di una strada che si è aperta praticamente in due, scossa di magnitudo 6.5, devasta le marche, strade aperte, paesi rasi al suolo, emergenza sfollati, sono almeno 25.000. Marche Nord, dei genti spostati, i pazienti spostati, affano si chiude il municipio, scuola, niente lezioni oggi, inagibili diverse chiese, pompieri giunte, oltre 200 segnalazioni. Lo vedremo tra poco, anzi facciamolo subito, entriamo subito nelle pagine del Corriere Adriatico, le pagine della nostra provincia, la provincia di Pesaro e Urbino. Paura e crolli, non c'è tregua, oltre 200 segnalazioni vigili del fuoco a Pesaro per ora, nessun edificio è stato dichiarato inagibile. Marche Nord, l'azienda ospedaliera, affano, sono stati spostati i degenti del reparto di Otorino, oggi le scuole non riapriranno, non riapriranno anche perché già era previsto il ponte, ma ce n'era qualcuna che era un paio di scuole che rimanevano aperte. Le scosse sorprendono i parrocchiani che erano alla messa, molte funzioni sono state spostate all'aperto, abbiamo detto Monbaroccio per esempio, così come è successo invece anche a Serra Santa Bondio, c'erano i fedeli all'interno della chiesa, stavano appunto partecipando alla messa, la scossa addirittura ha colpito mentre il parroco Don Stefano Sabatini celebrava la messa spaventando i fedeli, poi la chiesa è stata chiusa. Fano, chiuso il comune, i fedeli senza tre chiese, Transenna San Paterniano, Santa Maria Nuova e Madonna Ponte. Nella fotografia che pubblica il Corriere, questo è l'ingresso della chiesa di Santa Maria Nuova in pieno centro, vicino a due passi dal piazza 20 Settembre. Questo invece è l'ingresso della basilica di San Paterniano. Nel racconto di quello che hanno vissuto i fanesi, di quello che è successo a Fano, c'è anche questo, la delegazione della Proloco diretta ad Arquata del Tronto, costretta a fare dietro front a metà strada e quindi a tornare indietro perché poi nel frattempo, come abbiamo sentito ieri in diretta dal Presidente della Proloco di Fano, a un certo punto loro erano in viaggio in Pullman, c'era questo appuntamento ad Arquata con la delegazione di Fano, un centinaio di persone, dai social cominciavano ad arrivare notizie appunto di questa scossa di terremoto. Il tempo di informarsi con il Vice Sindaco di Arquata ha detto tornate indietro perché il Paese non esiste più, è stato raso al suolo. Il Duomo a Urbino è un sorvegliato speciale, chiuso dopo il terremoto del 24 agosto, è stato nuovamente transennato controlli anche al Palazzo Ducale e alle strutture dell'Ersu, trasferiti anche alcuni studenti al Palazzetto dello Sport di Fermignano, sospese tutte le attività e le competizioni. Devo dire che tantissimi sono gli eventi che ieri sono stati sospesi, ma anche solo per precauzione, anche solo non tanto per la paura che non ci fossero crolli o quant'altro, ma semplicemente per evitare che si potessero verificare situazioni di panico visto e considerato che siamo ancora nella fase che gli esperti chiamano di aftershock, cioè di situazioni, di scosse che potrebbero esserci ancora, di repliche o di sciame sismico come viene chiamato dagli esperti in italiano. Evacuate quattro case, qui siamo a Pergola nella pagina 17 del Corriere Adriatico, lesioni e cadute e caduta di pietra in abitazioni private, ci sono ordinanze adesso anche del sindaco Francesco Baldelli che ha presieduto la riunione del centro operativo comunale, cioè il COC, ha emesso due ordinanze di sgombero permesse in sicurezza di altrettanti immobili a Mezzanotte e Bellisio Alto e un'ordinanza di sgombero parziale di un edificio in centro storico dove abitano più famiglie. Mentre a Mondolfo, chiuse scuole e chiese, tutti tetti a rischio in centro, controlli a Mondolfo, coppi pericolanti, edificio recintato invece a San Costanzo, decidi i sopralluoghi del sindaco Barbieri nella Casa della Salute e nei plessi scolastici. Non dovevamo, scusate, andiamo adesso sull'altra pagina, facciamo così, andiamo sull'altra pagina, così chiudiamo la parentesi del terremoto, la questione del terremoto, andiamo sul resto del carlino, la prima pagina, eccola qua, il risveglio del terrore, panico per la grande scossa delle 7.41, gente in strada ed in pigiama, evacuata alcune famiglie a Pergola, danni a chiese e palazzi, oggi scuole chiuse, preoccupazione e solidarietà, un collage di fotografie tra Urbino e altri luoghi dove il terremoto si è fatto sentire e ha lasciato il segno. Questa è la prima pagina del resto del carlino. Andiamo, facciamo così, ecco qua, le vediamo tutte e due insieme queste pagine del resto del carlino di oggi, risveglio da paura con il mostro, la gente scappa da chiese e palazzi, messa interrotta ai cappuccini ed in piazza Redi, condomini fuori. Ieri circa 200 interventi appesano in città e negli altri centri dalla mattina alla notte, per i pompieri è stato davvero un super lavoro. Fratti in fuga dopo la preghiera accadono calcinacci in ospedale, la situazione affano, tre chiese transennate, scuole e municipi oggi resteranno chiusi. Al Santa Croce tre pazienti sono stati spostati per precauzione al day surgery, verifiche anche dei vigili del fuoco. Il Duomo a Urbino invece perde un pezzo, pietra dalla facciata, cede durante la messa. Queste sono le due pagine dedicate al terremoto del resto del carlino. Adesso l'altra notizia invece, l'altra notizia arriva da Gradara, dove un ragazzino di 17 anni è stato investito e ucciso da una jeep. Il dolore adesso dei familiari, chiaramente, questo dei genitori, questo è il dolore del padre. Il ragazzino, lo vedete nella fotografia, eccolo qua, non dovevano portarmelo via. Fabrizio Malpassi, 17 anni, travolto ucciso da una jeep. Il ragazzo abitava a Fanano, sciocca a Gradara. Un altro angelo è volato in cielo. Non ce la faccio ad andare avanti, mio figlio doveva ancora scoprire tutto dalla vita. Questo è il titolo del Corriere Adriatico. E stessa notizia sul resto del carlino. Voleva diventare barista, amava l'Inter ed il calcetto. La vita spezzata di Francesco, travolto dalla jeep, amici e docenti. Ricordo nel 17enne, ecco, la jeep coinvolta nello schianto. Non si tirava mai indietro se c'era da dare una mano. Venne a scuola, anche di domenica. Poi c'è il racconto invece di un infartuato che, alla guida della sua automobile, alla sua Fiat Punto, impazzita, che ha buttato giù prima un palo, che segnala la fermata di un autobus, poi si è scantata contro un muro di rescinzione. Tutto è successo poco prima delle 11 su Slapecchiese, perché insomma, sopra alla guida c'era un uomo che stava appunto subendo un infarto. Cimitero, addio ai parcheggi. C'è il mercato, siamo sulla pagina del carlino di Pesaro, occupato dalle bancarelle il San Decenzio nel giorno di ogni santi. I fioristi si dicono perplessi, mentre ieri è stato ritrovato a largo di Pesaro anche un cadavere che galleggiava a largo di Pesaro, alto 1,90, robusto, calvo. Lo ha scoperto un diportista che lo ha visto galleggiare nelle acque davanti al Monte San Bartolo. Adesso ci sono le ricerche per risalire alla sua identità. Poi le altre pagine del Corriere Adriatico, grave un ragazzino travolto da un quad. Il quad, vedete, sono queste moto, un quad che percorre una pista sterrata in questa fotografia. Siamo a Lunano, è un ragazzino di 17 anni che stava provando questo mezzo insieme ad un amico quando si è ribaltato. L'incidente è avvenuto in una zona impervia di Lunano. Difficili anche le operazioni di soccorso sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco e anche l'eliambulanza. Ora, il ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. È successo tutto intorno alle 14 quando è scattato appunto l'allarme. E questa è la pagina del Corriere. Sotto mafie, pesero territorio meglio preservato, il procuratore Roberti ha ritirato il premio anti-racket. Qui lo vediamo con Amerigo Varotti del Confcommercio. Da Urbino, la solidarietà del vice ministro, dalle marche riparte il futuro. Oliviero pone Acqualagna come esempio. Stiamo parlando della Fiera del Tartufo. Ovviamente l'emergenza è il sisma, la priorità è lo sviluppo. Qui vedete il conduttore TV Alessandro Borghese, al centro Andrea Oliviero. E poi il sindaco di Acqualagna, Andrea Pierotti. Con ovviamente sul vassoio il re di questo mese che è il Tartufo. Sant'Angelo Invado si congede invece, è finito la festa a Sant'Angelo Invado, si congede il rilancio, il prezioso tubero come brand per tutto il territorio. La pagina di fano del Corriere, eccola subito. La rivoluzione delle scuole, nuovo agrario a San Lazzaro. L'appendice dell'istituto pesarese dal 2017-18 sarà nella sede di staccata del Battisti. Aggregati l'istituto per ragioni al Polo Professionale 3 e l'Apolloni al Classico. Questa è la pagina di fano del Corriere. Andiamo subito sull'altra. Stazione inaccessibile ai disabili. Il servizio annunciato è fuori uso. Un utente in carrozzella costretto a scendere a Pesaro. L'ascensore non è stato collaudato. Assistenza non ancora abilitata. Ora l'associazione chiede spiegazione alle istituzioni e alla RTF, che è la rete delle ferrovie. Sembra una bici normale, invece è una bici elettrica. Anche qui, dopo aver fatto il Carlino, lo fa anche il Corriere Adriatico. Una nuova invenzione del mago delle due ruote, Angelo Tomassini. Mondolfo, alleanza con Senigallia, turisti attratti dall'arte giubilare, partner nel progetto culturale legato alla mostra Maria Matter Misericordie. Il sindaco Barbieri dice che questa bellezza coinvolge tutti i comuni dell'Interland. E poi la pagina di Senigallia, guardate qua, la fotografia di questi ragazzini. Quando si gioca con la vita, a proposito di vita, questi periodi, questi giorni, dovrebbero farci riflettere abbastanza. In realtà questi giovani che fanno le fotografie, i famosi selfie sui binari, tempo di sfida sulle strisce pedonali, la folle gara segnalata sabato sera dai residenti di Viale della Resistenza, un salto per evitare le macchine, ragazzini si sfidano sulle strisce pedonali. Chiaramente questa è una foto che fa capire, non si riferisce a quello che è successo a Senigallia nei giorni scorsi, perché la sfida è sulle strisce pedonali e non sui binari della ferrovia, però ci sono anche quelli che fanno i selfie sui binari della ferrovia. Interviene su questa moda, chiamiamola così, ma non è certamente una moda, Don Luciano Guerri, ci attiveremo per comprendere l'entità di questo fenomeno, che vi abbiamo segnalato, qualcuno se lo ricorderà, anche qualche settimana fa a Fano, nella zona dell'aeroporto, la stessa cosa che fanno a Senigallia la fanno anche a Fano, quindi significa che comunque è una moda che sta dilagando un po' tra i giovani in tutta Italia. Allora ci fermiamo qui, la rassegna stampa è terminata, grazie per averci seguito, vi ricordo questa sera il telegiornale alle 20.30 con tutte le ultime notizie del giorno. Arrivederci. Grazie Grazie Grazie